Un buon pomeriggio a tutti voi, un nuovo appuntamento con le nostre breaking news. Cominciamo dalla giornata della memoria che è stata celebrata anche ad Arezzo questa mattina con una cerimonia nella zona che un tempo ospitava il cimitero ebraico. Parliamo anche di sanità perché il prossimo, quello che arriva è un fine settimana che l'ASL Toscana Sud-Est ha dedicato all'open day pediatrico, vaccinazioni dunque aperte per i bambini da 5 agli 11 anni nei vari centri vaccinali della provincia. La politica, un'interrogazione diretta al sindaco di Arezzo da parte del gruppo della Lega rischia di rialzare la tensione tra le forze della maggioranza che governa il comune di Arezzo. È tutto per le nostre breaking news, grazie per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione!